Presentata presso il Circo L'Unione di Lucera, la nona edizione di Ballando con le stelle, Teleton. L'evento è stato preceduto da un convegno sulle malattie genetiche rare ed è stato promosso dal Centro Sportivo Casanova in collaborazione con il Comune di Lucera. A dare il benvenuto ai partecipanti Silvio Di Pasqua, presidente del Circo L'Unione, mentre Biagio Russo, referente Teleton per Lucera, ha introdotto il tema e i relatori Antonella Squeo, coordinatrice provinciale Teleton, Valentina Ragno, responsabile della gestione volontari della fondazione Teleton, Michele Santo di Rocco, ematologo e Giuseppe Merla dell'Università Federico II di Napoli. L'evento è stato moderato dal medico Giuseppe Lempo, presidente dell'Unitredi di Lucera. L'evento è stata un'opportunità unica per approfondire le conoscenze sulle malattie genetiche rare conosciute come grandi problematiche per questo momento storico. L'incontro è stato riconosciuto come assemblea provinciale di Teleton ed è stata anche l'occasione per presentare il programma Raccoltafondi Campagna Natale 2024. Al termine dell'incontro sono state presentate le novità di Ballando con le stelle Teleton 2024. Le 15 coppie, formate da maestri di ballo e dalle stelle, personaggi noti del territorio, si esibiranno a scopo benefico l'8 dicembre al Palace Porto di Lucera in uno show aperto al pubblico.